Salve a tutti, sono Giulio Vicinelli, nella vita scrivo di cinema per alias Il Manifesto, Uzza che ha altre riviste, l'argomento cinematografico, quindi ricopro il temutissimo ruolo di critico cinematografico. A Action Academy curo gli insegnamenti di storia critica del linguaggio cinematografico. L'insegnamento per come è stato impostato ha un fine eminentemente pratico, quindi si tratterà di analizzare anche in maniera molto specifica una vasta casistica di esempi storici di come le varie tecniche di montaggio e di ripresa sono state impiegate in film di grande successo. Quindi lo scopo finale del corso è quello di rendere queste nozioni immediatamente disponibili e applicabili nei corti che i ragazzi andranno a realizzare. Che dire, per concludere quindi vi attendo al prossimo anno accademico con uno straordinario programma di visioni e di riflessioni su quel fantastico linguaggio che è quello della settima arte.